Ida Platano resta in silenzio al centro dello studio, mentre Tina Cipollari e Mario Cusitore discutono animatamente. «Queste cose non mi fanno bene. È vero che ogni volta qualcosa si risolve e poi accade nuovamente un'altra cosa», crolla Ida. Tina Cipollari, furiosa con Mario Cusitore, prova ancora ad aprire gli occhi ad Ida, esortandola a non credere a ciò che le dice il corteggiatore napoletano. «Non ti fare imbambolare dalle cose che dice questo bugiardo. Ricordati che è andato a letto con un'altra donna perché la gente non ha tempo da perdere telefonando per fare false segnalazioni», puntualizzatina. «Cosa facciamo? Mi vado a sedere o me ne vado?», chiede Mario. «Questo è un ricatto morale», aggiunge ancora la Cipollari mentre Maria De Filippi tenta di difendere Mario. «Credo che sia stanco di tutto e non ha fatto alcun ricatto, ha solo chiesto se poteva tornare a sedersi». Le parole della conduttrice che poi manda in onda all'esterna con Pierpaolo Ida Platano. Continua ad avere tanti dubbi su Mario Cusitore, sul quale cerca di fare chiarezza nel corso della puntata di Uomini e donne del 2 maggio 2024, durante la quale Maria De Filippi riassume quanto accaduto nelle puntate scorse con la segnalazione riguardate la ragazza del BNB con cui Mario sarebbe stato visto. In un filmato trasmesso nella puntata in onda oggi, Ida Platano chiama personalmente la ragazza con cui sarebbe stato visto Mario che, stando alle parole del corteggiatore, sarebbe solo un'amica. «Solo perché questa ragazza è alta, bionda e bona. Tu pensi che io me la sua scopata?» sbotta Mario prima di lasciare il telefono a Dida. La ragazza racconta di vivere a Milano e di aver conosciuto Mario attraverso una videochiamata per poi trascorrere tre giorni a Napoli. «Tu vuoi trovare sempre il pelo dell'uovo per infangarmi? Non te lo permetto più. Mi sono stufato di dimostrare sempre. Nel momento in cui ti dico che sono innamorato di te, sta parlando il cuore e speravo che, per una volta, tu mi credessi», dice ancora il corteggiatore nel filmato.